buona sera a tutti sono luigi naracco sempre finito e bentornati al video che mi permetterà di tornare in linea almeno con le unità principali di questo ottavo anniversario ormai si è concluso domani mattina avremo i festeggiamenti gt con il duo 17 è stato annunciato e in realtà devo dire la community era divisa in due sull'ESA tour io avrei detto tutto quanto sul C13 invece no R17 molto meglio come idea di tour perché R17 di sicuro più atteso di SC13 però non serve a un cavolo con questi Q17 vabbè andiamo oltre poi mi pare di aver visto l'ESA di SEL del SEL free to play LR che non aveva ancora ricevuto l'ESA quanto pare un'età che avrò usato due o tre volte nel mondo quindi non mi ricordo dove andare a rivedere comunque rimaniamo nell'anniversario analizziamo le due LR della seconda parte con solo due settimane di ritardo quindi cosa volete che sia sono usciti il 16 febbraio oggi siamo al 5 marzo va bene così questo anniversario è uscito nel peggior momento esistente ho avuto il mondo da fare ma adesso almeno recuperiamo con poi solo due free to play e due Rer Summon da recuperare quindi dovrei riuscirci e poi tutte le run che ho registrato quindi le andremo a vedere l'evento dei draghi e tutto quanto ve li porto tra l'altro come showcase di queste unità oggi analizziamo nel primo video Goku nel secondo video Gohan Goku a mio avviso è il migliore dei due avviso personale c'è anche il regio che Goku l'ho potuto testare a pieno Gohan è stata più tosta purtroppo non pubblicherò più il video pool perché ormai non avrebbe molto senso ho trovato Goku ho trovato Goku subito praticamente Gohan anche usando tutti i ticket esistenti non l'ho trovato ho trovato qualsiasi LR in quel banner tranne lui e quindi ci sta Gohan l'ho testato per quello che potevo quindi spero di riuscire a fare dopo l'analisi decente Goku invece l'ho testato abbastanza ho visto cose abbastanza buone andiamo ad analizzare al completo questa nuova LR terzo Goku Carnival almeno a sto giro è Goku Base Form anche se diventa Super Saiyan nella special abbiamo 15.075 HP, 16.935 attacco e 14.419 di difesa leader Tartal School 3k e 200% stats leader che non useremo mai se no nel Battlefield praticamente Tartal School oddio Tartal School sta iniziando a diventare qualcosa di carino perché bene o male si può utilizzare come team pieno di Goku per essere decente a Yamcha però ci sono alternative a Tartal School decisamente superiori anche se quel 200% potrebbe far gola ha un'entranza animation 4k e 59% attacco e difesa e guardia per i primi 6 turni da quando appare quindi avete per 3 turni la guardia cosa importantissima in quanto come vedremo dopo lui si basa completamente su quanti attacchi becca quindi se non lo giocate prima avrete numerose difficoltà a buildarlo bene 159 attacco e difesa e 4k all'inizio del turno torno una meccanica che non vedevamo da secoli ovvero che una volta a turno sopravvive a un attacco KO il che cosa vuol dire? vuol dire che se un nemico lo sta per colpire e uccidervi rimarrà un HP meccanica fatta di schifo in Dokkan perché è inutile è utile unicamente su un pg giocato terzo efficacemente oppure se lui ha giocato prima c'è solo un attacco il nemico vi lancia la special per lui lo shot unico modo per cui questa meccanica ha il minimo senso di esistere solo che lui ha giocato terzo non è che ci stia molto bene ve lo dico chiaramente però vabbè cosa importante se avete meno del 4% di HP recupererete un 59% di HP quindi andrete quasi full questa è la meccanica forse migliore del pg in quanto comunque è solido difensivamente è buono offensivamente se ha d'ability una volta che viene maxata la sua passiva questa recovery è molto utile in questi cavoli di eventi che ormai vediamo sempre con un solo oggetto in quanto un 60% di recovery non fa mai male quindi ci sta abbiamo un ki e critico più 9% fino a 5 ki e 59% di critico con ogni attacco ricevuto 59% di difesa a partire dal turno in cui subisci il quinto attacco quindi risolto dal secondo turno e 120% attacco e questo è importante ragazzi perché con questo attacco arriva anche a 10 migliori ability free di danno a partire dal nono attacco che riceve ulteriormente a definire come questo prevalentemente sia un pg a mio avviso difensivo abbiamo il 50% di evadere le special ki blast e di contrattaccare gli attacchi cosa ah si non dimenticavo effetto kaioken nella 18 ki nella difesa e aumento dell'attacco per un turno aumento attacco e difesa per un turno invece nella 12 ki abbiamo un active abbiamo un active giocabile a partire dal quinto turno con un alto earth blade fighter attaccante nello stesso turno con hp inferiori al 59% per darvi idea di quale earth blade fighter avrete probabilmente nel team con lui potreste avere gohan agl potreste avere piccolo lr gocarnival tech gohan kid int che ottimo gocarnival str anche per il global ma anche per noi penso tra non molto potremmo avere anche goku god soprattutto gohan beast che tra l'altro è anche il suo linker migliore anche se questo è uno dei problemi dei pg dopo vedremo quei link che non è che abbia chissà quali link eccezionali per avere dei linker fa danni alti e tutti gli attacchi diventano critici per un turno quindi avremo critico innato che vuol dire tutto e vuol dire nulla perché comunque non è additional incorporato buildatelo 20 additional per massimizzare che posso dire del pg secondo me almeno l'ability 1 è buon averlo va giocato per i primi turni primo almeno i primi 2 3 turni primo comunque in posizione che subisca molti attacchi offensivamente ad ability free non è questo gran che finché non si attiva il 120% attacco addizionale dopo diventa un bel bitone ma fino ad allora niente di superlativo eccezionale carichi sui 5 milioni con la 18 key sui 4 milioni e qualcosa comunque quindi non è totalmente a buttare ormai 4 milioni e mezzo con la 18 key turno 1 sono abbastanza nella norma non sono più cose da gridare al miracolo lui rientra nella norma difensivamente molto buono magari si ha bisogno proprio di quei 5 attacchi per essere sicuro però ce la fa peccato perdere la guardia però con l'effetto Kaioken dovreste riuscire a caricarvi la difesa di parecchio può arrivare ottimi valori difensivi è un pc che funziona non è la carnival incredibile impressionante non è uno dei due con carnival come forza dei carnival siamo superiori a metal cooler di cui ho trovato due copie anche se metal cooler ora che c'ho il bt2 vi confermo quanto ho detto all'analisi all'epoca se si usa con criterio vi cambia le run anche subendo tutti i danni che riceve tutti i casini che ha giocato con criterio vi permette di chiudere le run ve lo permette soprattutto in battagimic come stiamo avendo con attacchi che sciottano se lo riuscite a usare come volete a morire nei turni giusti subire le special giuste metal cooler è molto buono però come carnival a oggi non avendo potuto provare guanchi dal 100% però allora è stato il peggiore non posso sparare troppo su guanchi avendo provato soltanto amico quindi c'ho comunque un limite da poter dire questo goku è inferiore di sicuro ai due goku carnival tutta la vita inferiore ai due goku carnival meglio di guanchi ed è come lr non lo vedo forse parte bassa della top 10 ma non ne sono neanche sicuro niente top 10 forse si dovrei trovarlo ad ability perché questo è un pc che secondo me con l'ability cambia davvero a differenza dei due carnival che cambia la distanza con l'ability ma già hanno la loro bella efficacia ad ability free per quello che devono fare lui ad ability ne ha bisogno per le stats più che altro perché comunque arriva a 50% di critico in nato anche ad ability free quindi GG link non ha questo grand key where you're racing in the famous when fighters in fighters z fighters fast battle in dari power non ha link che vi darà problemi all'inizio primo turno in cui lo giocate dove giocarlo primo anche per questo se non lo giocate primo potreste davvero avere un po' di fastidio a lanciare la 18 key una volta buildato al massimo e fu il 18 sempre comunque poi non è vero in realtà perché comunque i primi turni parte con 14 key ci vuol dovete avere sfiga per non lanciare la 18 dovete avere sfiga per non lanciare la 18 perché adesso c'è anche i 4 key iniziali dell'entrance animation sì non è detto lanciare la 18 a me mi sta capitando non sapete quante volte nel provare a vincere in meno di 7 turni il settemoto anniversario di avere turnazioni in cui non lancio le 18 neanche a pagarlo sono troppo buone le LR che hanno bonus key troppo troppo buone lui una volta buildato fu il 18 sempre quindi sempre quei 4 milioni e mezzo 5 milioni fissi ad ability free non è comunque una pessima unità anzi category pure full power go family non è obbligatorio nessuno di questi in base all'evento può essere tanta roba con l'ealing a special fisica che non è tutto brutale dato che comunque ci sono tanti inizia a esserci eventi che assorbono queste cavoli speciali quindi può essere utile e da portare ad ability da tenere d'occhio non penso sarà mai questa unit in grande impressionante però però rimane una unit più che giocabile rimane una unit decente e di sicuro se l'avete pullato nel suo banner potete ritravervi soddisfatti nel suo banner meglio di lui go carnival mi pare ma fin fine non c'è altro tutto questo il team in voi se l'avete pullato cosa ne pensate noi ci vediamo più tardi con go an kid alla prossima